ciao cinefusi.it oggi vi parlo di presenzias il film di luis mandocchi che verrà presentato fuori concorso al torino film festival 2022 è interpretato dagli attori alberto amman e realizza a parisio e verrà distribuito dalla 102 distribution si tratta di un thriller che a volte sconfina nell'horror ma diciamo che è più un thriller psicologico tutto infatti dell'atmosfera del film ci porta in questo mondo un po' gotico con appunto i colori molto freddi molto virati sul sul blu e sull'azzurro e il film parla della storia del protagonista che è un attore molto famoso un interprete di film cinematografici che ha una moglie e che deve recarsi nella tenuta di famiglia in in campagna per vendere questa casa lui ha un padre ed un fratello più piccolo e il film si apre proprio con un flashback proprio nei luoghi dove è questa tenuta di famiglia su un bellissimo lago e molti anni prima quando il protagonista insieme alla sorella stanno facendo il bagno in questo lago e la madre è poco distante con il fratellino più piccolo questi luoghi però diventano teatro di una tragedia perché la sorellina di del protagonista scompare nelle acque del lago e lui non fa in tempo diciamo a salvarla ma fa solo in tempo a vedere che una mano di una sorta di mostro la prende e la la sommerge la fa affogare appunto ovviamente questa tragedia segnerà a tutta la sua vita non solo la sua ma anche e soprattutto quella della sua famiglia quella della madre che da quel giorno non sarà più la stessa quella del padre del fratello più piccolo quindi lui con qualche timore si in questa casa di famiglia dove ad accoglierlo trova la sua vecchia tata una signora anziana che però gli vuole molto bene inoltre lui attraverso i racconti e anche attraverso dei flashback si vede come questa tragedia abbia segnato appunto la sua vita anche di uomo adulto perché lui si è in cura presso una psichiatra alla quale cerca di raccontare questi fatti del passato che per lui sono così penosi e e quindi cerca di esorcizzare la morte della sorella di cui si è sempre sentito responsabile anche se per lui è stato appunto questa sorta di demone a uccidere a uccidere la sorella e però quando lui si rega nella tenuta di famiglia un'altra tragedia lo investirà una tragedia enorme e quindi dovrà fare i conti con con questo nuovo problema nella sua vita anche questo che sembra essere causato appunto da questo demone che lo che lo perseguita e che lui non riesce a sconfiggere e anche se avrà l'aiuto del fratello piccolo si troverà sommerso in un mondo molto quasi pieno di presenze fantasmatiche infatti quando lui si rega alla polizia per denunciare la morte della moglie che nel frattempo appunto questa è la tragedia che lo colpisce la moglie viene uccisa e la moglie aspettava anche il loro primo bambino quindi quando lui si rega dalla polizia trova la polizia che è molto distaccata molto distante e lui inizia un'indagine personale che lo porterà però a scoprire una verità che è ancora più orrenda della realtà dei fatti devo dire che il film non mi è piaciuto particolarmente perché nonostante la trama possa essere anche avvincente ho trovato un po' lenta la regia quindi invece di tenerci con il fiato sospeso magari con un montaggio un po' serrato tutta questa investigazione e anche l'investigazione nel passato del protagonista avviene sempre con un ritmo molto lento però devo dire che è un horror comunque che si potrebbe quasi definire d'autore perché sia le riprese che le immagini e anche l'uso del colore ne fanno comunque un film di qualità che perciò anche sperando di avervi incuriosito vi consiglio di guardare se vi è piaciuto questo video mettete mi piace alla pagina facebook di cinefusi.it alla pagina instagram al canale youtube di questo video grazie e buona serata da brevido